Buon pomeriggio dal Tg della Mobilità. Cantieri e viabilità da oggi per due notti. Via Masaniello sarà chiusa al traffico per lavori di posa di nuovi cavidotti. Siamo nell'area di cantiere per la demolizione della tangenziale. La strada chiuderà dalle 21.30 alle 5 questa notte e domani notte. In programma anche la deviazione di 10 linee bus. Quattro di queste, le linee 211, 409, N041 e N409 sposteranno il loro capolinea sul largo Mazzoni. E sempre in tema di lavori resterà chiusa sino a domenica la stazione Spagna della Metro a pochi giorni di stop per lasciare spazio ai lavori di sostituzione degli impianti elettrici. Prossime date in calendario, i lavori nella stazione Barberini dal 25 al 31 gennaio e nella stazione Repubblica dal 18 al 21 febbraio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg della Mobilità.